beatosi e benvenuti in questo nuovo video dopo tanto tempo di attesa è finalmente uscito Far Cry 6 purtroppo lo so sono un po in ritardo rispetto a tutte le persone che l'hanno già portato ma prima non potevo perdonatemi ragazzi non mi sono assolutamente spoilerato niente ho solo visto il primissimo trailer mandato da Ubisoft e da lì basta ragazzi premetto un'ultima cosa e il video originale veniva troppo lungo quindi ho dovuto dividerlo in due parti spero vi piaccia comunque ma adesso basta parlare e partiamo my true yarns I stand before you armed with truth for too long our country was stolen by politicians but you elected a vision a cure a road to paradise viviro created by our own brilliant scientists the most effective treatment for cancer the world has ever seen grown within our precious tobacco modified with the purest fertilizer viviro is the key to rebuild paradise but our paradise comes at a cost this our enemies will never understand yara did not really need to do what's easy but to do what's right and so with renewed focus i must extend the draft to paradise true yarns from across our island chosen to produce enough viviro to heal the world and save our country these lucky yarns will be chosen by random lottery even my own son diego could be drafted tomorrow hey danny and like a true yarns turn that shit off with a smile on his face precisamente exactly what castillo wants enough politics lita you think the draft is only taking true yarns it's the outcasts the poor orphans like us he's bringing slavery back from the dead in yara you can't run from this hang on you ditched us run out to the jungle with a bunch of guerrillas libertad now you're back here to recruit for clara garcia's local crusade come on this is our big goodbye danny fucking say something ok dobbiamo cambiare il personaggio danny ora visto che questo è è un gioco fatto diciamo è stato fatto per un personaggio donna lo faccio donna danny you could help libertad you train would have been career military if you weren't such a fuck up just come with us lita hi you never fucking listen danny hey time to go boss waiting drinks in mexico dinner in miami oh un blackout oh si ah si la fine del mondo addirittura ma che cosa fai gli veni oddio porca ma cosa così che cazzo fa no ma dai ma sei proprio un pirlo allora eh si eh già complimenti la barca si come danny la barca che barca ok ci siamo oh andiamo 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 miami ok non armi non farti vedere dei soldati uh ci sono andati giù furtività si l'indicatore si riempie quando ti vedono l contro per appucciarti tutte cose diciamo che sappiamo mio dio mio dio mi sta per giocare danny royas che siamo noi ok andiamoci nel più presto possibile porca che cazzo sta facendo no porca no dai ma perché ma non aveva neanche un'arma in mano né niente perché l'ha fatto vabbè eh dittatura forse eh giusto un po' mattia madonna un carro armato è pure ah beh si è quello di prima giusto giusto c'è qualcuno ok posso sbirciare ok andiamo andiamo ok non mi vedono neanche se sto se sto in piedi dalle fogne ma come dalle fogne no dai no ti prego si sta muovendo eh si cazzo cazzo mi stava vedendo corri 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 vai fuggi fuggi vai me l'ho visto uh quasi quasi me l'ho quasi visto no alla dittatura si mi sa che sono una dittatura dov'è ah eccola ok cerchiamo di andare fuori viva la revolution sono sopra sono sopra di noi porca corri 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 scappa 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 ok vai che coño ci hanno sgamato no dai fuck castillo ok è riuscita si è riuscita non dirmi che lo uccide perfetto vai su vai su veloce c'è un po' di animali lo so vai andiamo avanti perché devo sbirciare dove sei sei un po' indietro eh cicciotta sali una bella bombetta due belle bombette e loro oh no no mi hanno sgamato cazzo via corri 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 madonna ok no 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 vengo in pace vengo in pace ciao 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 si 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 andiamo avanti cerchiamo di non farci beccare si abbiamo perso Lita perché noi siamo caduti e lei non so dove si è finita quindi oh porca proprio qua sono castello di castiglio ah si ma carino si tratta bene il tipetto dove sei Lita ah eccoti ok ottimo già ok questa è la polizia ah se questa è la polizia corri perfetto vai corri un cannone ma che cosa madonna l'ambientazione è carina devo ammetterlo siamo arrivati alla barca ah già a lei io non c'è più e dai salite cazzo vanno uccidendo tutti aspetti San Judas che succede mi sa che ci hanno giocato mi sa che ci hanno beccato mi sa proprio di sì chi è? noo cazzo è proprio lui prima di che era il presidente mio papà amava i pesci andavamo in un pollo proprio così andavamo catch the fish and then release them diceva che non è sempre un po' per il cuore è un po' per l'opportunità ma quando aveva un po' grande e che aveva un po' grande e che aveva un po' molto orgoglio di lasciare questo SICTIRONO avete un po' di giallo e avete un po' di giallo ho un po' di giallo Diego Diego ah ah suo figlio porca vacca ora è il momento di portarlo non voglio questo più papà abbiamo nessuna scelta lascia andare possono lavorare faccio vivere la vera o la lie la vera potrebbero essere buoni lavoratori potrebbero aiutare potrebbero aiutare il paradiso ma se volessi volessi vivere tu non avessi mettere il po' di giallo 13 anni e Diego ha un po' di compagno per il loro e quindi adesso cosa succede? dimmi che hanno chiuso mi sa che ci vogliono affondare ehm ah no proprio ti sparano però entra l'acqua quindi no l'hanno presa hanno preso l'ita uh abbiamo preso anche noi però una botticella in testa ok siamo in una spiaggia eccolo che inizia Ubisoft presenta dov'è l'ita? eccolo è viva? si è viva no va bene sai no va bene 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 ma Ok Clara ma no non dimmi che muore si è morta così all'inizio non me l'aspettavo home far cry 6 è iniziata castiglio il dittatore ci ha ucciso la nostra amichetta e anche il nostro amico tra l'altro che è l'inizio eccoci abbiamo iniziato a fare 3 6 mamma mia apriamo questa tassa e prendiamo una pistola ma è scarica però perché me la dai nuove foto vediamo come fa a funzionare ancora è tipo una mappa che mi sta a indicare per andare per indicare il punto dove dovrebbe trovarsi clara penso ma presuppongo che sia verso di là anche perché c'è una freccia che mi indica dove andare un'altra freccia c'è qualcosa di rosso però non è mai c'è qualcosa di rosso nella mappa qui c'è qualcosa i bulloni riciclati ottimo un porto un soldato ignaro usa f per il macete kill silenziosa il nostro macetone c'è dato anche delle munizioni o molto buono però noi abbiamo un macete che uccidiamo col macete ma io mi chiedo cosa ci fanno qua ecco quindi cercano anche loro qualcuno morì apriamo la tassa cosa mi ha dato pantaloni delle munizioni cambio dotazione nel menu arsenale diamo un po che cos'è questa cosa cos'è che ci dà aumenta gli avventi la scorta di munizioni per arma secondaria ottimo possiamo andare avanti con la freccia che ci sta a indicare dove andare ho sentito che cazzo ma da dove carne di animale rovinata cosa me ne faccio c'è rovinata vabbè magari posso utilizzarla comunque un rampino bello vai usiamo il rampino penso si usi come tutti gli altri far cry esatto no mi sa di no 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 Grazie.